amici di tecno android oggi video flash vedremo infatti come attivare le video chiamate su whatsapp procedimento estremamente semplice basterà aprire il browser e andare sul sito ufficiale di whatsapp una volta entrati basterà scendere fin sotto e trovare la voce scarica selezionare android perché ricordiamo che la versione beta è disponibile solo per gli utenti android troveremo un link sotto la parola beta che andremo a cliccare e ci apparirà questa schermata in cui ci dice che abbiamo la possibilità di diventare dei tester di whatsapp messenger una volta abilitata questa funzione ci informa dell'aggiornamento che riceveremo a breve sul nostro smartphone si potrà uscire dal programma di test in qualsiasi momento disinstallando l'applicazione e ristallandola normalmente dal play store una volta terminati tutti i procedimenti andando nelle nostre chat e premendo sull'iconcina del contatto apparirà anche quella della videochiamata nei prossimi giorni farò un confronto con le tre applicazioni di videochiamata che preferisco ovvero whatsapp duo l'applicazione di google e skype che forse è quella che abbraccia più utenti per questo video guida è tutto un saluto per te con android da emilio colangelo